Viene o non viene? Vabbè, vengo o non vengo, non me ne frega niente, anzi io manco lo volevo nel film mio. Sì, sì, ce lo dica a papella e papella a questo signore Travolta, che a me manco mi piace, sì, perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi ci viene la febbre. Lasci perdere, non va niente. Anzi, sai che cosa ci diciamo noi italiani a questi divi che non vogliono venire qua? Sì, go to die killed! Andate a morire a Mazzetti! E mi sono sfogato, e che roba è? E non ti fanno queste cose? Sì, abbiamo speso 87 milioni per fare quei camerini, tutti russuosi, tutti belli hollywoodieni, e a me che mi hanno chiuso qua dentro a questa cosa brutta, schifosa, che sembra un cesso. Che sembra? No, che sembra, che è un cesso. Vi pare onesto? Meno male che c'è Luciano Salice, Luciano Salice è una persona squisitissima, con lui un lavoro veramente volentieri, si è creata una specie di simbiosi fra me e Luciano, che alla fine del mondo ve ne vede, poi vedrete, vedrete, perché ha capito la mia provenienza, la mia cultura, la mia intelligenza. Vieni avanti, cretino!